5.400 bambini del medio Friuli dovranno rivaccinarsi perché potenzialmente finiti nelle mani dell'infermiera trevigiana che non avrebbe sommistrato i medicinali e la procura di Udine chiede altre analisi come prove legali. La rabbia dei genitori che dovranno rivaccinare i propri bambini a merito di tomba si pensa alla class action, il racconto di una mamma con l'infermiera sembrava la migliore che potesse capitarci. Cantieri in corso, incidenti e la ripartenza del traffico pesante bloccato fino a ieri in Slovenia mandato in TIL la circolazione lungo l'autostrada 4, code e forti rallentamenti per tutta la giornata. E' partito il secondo lotto di lavori di restauro in piazza Libertà Udine dopo la riconsegna di Ercole e Caco, il restauro interessa le statue e l'intervento è stato finanziato dalla Danieli tramite l'Art Bonus. Si intitola Amanti, passioni umane e divine, la tredicesima mostra internazionale di legio che aprirà al pubblico il 21 maggio. Signore e signori buonasera e grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli. Sono tra le 6.000 e le 7.000 le persone che dovranno rivaccinarsi in Friuli perché potenzialmente finite nelle mani dell'infermiera trevigiana che non avrebbe somministrato le dosi di medicinale. 5.400 sono i bambini e i ragazzi richiamati nel solo medio Friuli. Le dosi sospette sono oltre 20.000. Nei sei anni in cui ha operato sul territorio l'assistente sanitaria al centro dello scandalo non si sono verificati focolai epidemici. Segno che gli esperti, per gli esperti, che ha funzionato l'immunità di Grecia. Le vaccinazioni dubbie eseguite a Codroipo in giorni in cui l'infermiera trevigiana Emanuela Petrillo era in servizio sono 20.350. Si tratta soprattutto dell'esa valente, 7.500 dosi, e di quello che protegge dall'opneumo cocco, 4.700 inizioni sospette. È quanto riferito al Dipartimento di Prevenzione di Udine dove l'azienda per l'assistenza sanitaria 3 ha organizzato una conferenza stampa per illustrare il piano straordinario di rivaccinazioni partito il 2 maggio. Verranno richiamati 5.400 bambini del medio Friuli, più altri vaccinati dalla stessa assistente sanitaria in altri distretti dell'ex azienda 4. Complessivamente, compresi alcuni adulti, sono tra le 6.000 e le 7.000 persone. I primi ad essere richiamati sono i bambini che hanno effettuato l'intero ciclo di vaccinazioni in giorno in cui era in servizio Petrillo, tra il 16 novembre 2009 e il 18 dicembre 2015. Tutte le famiglie interessate verranno chiamate entro metà maggio. Il piano completo di rivaccinazioni si concluderà entro novembre. Delle oltre 20.000 vaccinazioni dubbie, è stato spiegato, molte in realtà sono andate a buon fine perché somministrate da un altro operatore, ma la task force di esperti e professionisti, costituita ad hoc, in parte presente alla conferenza stampa, ha deciso di seguire il principio di massima precauzione e di ripetere tutte le dosi somministrate nei giorni in cui era in servizio l'infermiera trevigiana. Parallelamente proseguirà la normale attività di vaccinazioni. Pierpaolo Benetollo, direttore dell'azienda per l'assistenza sanitaria numero 3, ha precisato come nel medio Friuli non si sia verificato alcun focolaio epidemico, l'immunità di greggio ha funzionato nei sei anni in questione. Quanto ai 200 prelievi a campione effettuati dalla task force, è stato spiegato che sono tutti bambini vaccinati dalla Petrillo. La metà è risultata scoperta dal vaccino del morbillo, un terzo dall'esavalente. L'azienda sanitaria ha riferito dello sconcerto e della rabbia delle famiglie coinvolte per la fiducia tradita, ma anche della frustrazione dei professionisti sanitari che ogni giorno lavorano nel rispetto della deontologia. Due o tre coppie di genitori contattate per la rivaccinazione si sono prese del tempo per valutare se presentarsi in distretto o meno. Una cosa è certa, in medio Friuli nessuno si era accorto di nulla, ne aveva fino ad ora avuto sospetti. Il direttore Benetollo è stato informato con una telefonata ricevuta giovedì 20 aprile dal direttore generale dell'azienda sanitaria di Treviso che Emanuela Petrillo aveva lavorato anche in Friuli. Da lì l'avvio dei controlli sul territorio e l'amara sorpresa. C'è chi si chiede come mai il campanello d'allarme dal Veneto non sia suonato prima. La procura di Udine ha chiesto ulteriori controlli che costituiscono una prova legale per accertare eventuali responsabilità di Emanuela Petrillo e l'azienda per l'assistenza sanitaria numero tre ha incaricato i propri avvocati di adire alle vie legali. La procura di Udine ha bisogno di prove legali per verificare se vi siano delle responsabilità effettive a carico dell'assistenza sanitaria che avrebbe solo finto di vaccinare i bambini. Per questo la magistratura disporrà un nuovo piano di controlli di concerto con le strutture sanitarie. Per le analisi servirà il consenso dei genitori. È quanto ha precisato il direttore dell'azienda per l'assistenza sanitaria numero tre Pierpaolo Benetollo. La stessa AS ha dato incarico agli avvocati per un'azione legale nei confronti dell'infermiera al centro dello scandalo. I prelievi che abbiamo fatto noi dovevano rispondere a quella domanda c'è o non c'è un problema. Invece adesso che abbiamo visto che il problema c'è servono altri prelievi per rispondere a un'altra domanda. Possiamo provare che il problema è legato proprio al comportamento di questa persona in maniera che sia valida anche in un tribunale. Quindi stiamo collaborando con la magistratura per definire un nuovo set di prelievi che poi la magistratura ci darà indicazione di fare secondo le proprie esigenze. I magistrati mi hanno già comunicato che in ogni caso verrà fatta salva la libertà di scelta delle famiglie. Però noi speriamo di avere una collaborazione ampia in modo da poter acquisire prove secondo tutti i crismi dell'azione legale. Voi farete azione legale nei confronti di questa persona? Sì, certamente sì. Noi siamo già andati in procura e quindi è stata un'azione che verrà portata avanti sul piano penale della magistratura e poi ci seguirà un'azione civile. A Bereto di Tomba un gruppo di genitori sta pensando alla class action contro Emanuela Petrillo. Ecco la testimonianza della mamma di due bambini vaccinati contro la varicella dall'infermiera che poi hanno manifestato la malattia infettiva in forma grave. Sembrava la migliore operatrice sanitaria che potesse capitarci. Racconta. Signora ci vuole raccontare che cosa le è successo, che cosa è successo ai suoi due bambini? Dunque sì, allora loro sono stati regolarmente vaccinati, ricordo bene, da questa assistente sanitaria contro la varicella con un vaccino a parte. A dicembre, gennaio, adesso non ricordo bene, hanno entrambi preso la malattia in maniera anche abbastanza pesante. La domanda che ci siamo posti sia io che altri che hanno avuto la stessa conseguenza era, in merito appunto a questa questione, se evidentemente il vaccino mai è entrato in vigore, mettiamola qua così e quindi a questo punto la preoccupazione rimane forte anche sulle altre coperture ovviamente. Quando ha capito che i suoi due bambini potevano essere coinvolti in questo scandalo delle false vaccinazioni? Immediatamente, 4 anni e mezzo e 5 anni e mezzo, quindi sono proprio nel range, nell'intervallo dei 6 anni in cui ha lavorato l'assistente sanitaria. Il problema è che noi appena abbiamo visto la foto sul giornale, ci siamo immediatamente confrontati, abbiamo verificato esattamente che era l'assistente sotto accusa, che tra l'altro ha lasciato tutti un po' basiti perché apparentemente il comportamento verso i bambini era assolutamente amorevole, sembrava anzi la migliore assistente lì, è il migliore perché chiaramente i miei bambini non hanno mai pianto. Una delle accuse verso questa assistente è che lei non faceva piangere i bambini e che quindi poteva essere sintomo di non vaccinazione, poi il buco obiettivamente c'era perché ricordo bene il cerotto con il buchetto con la goccina di sangue. Noi siamo sempre stati presenti col bambino in braccio, non ci siamo mai accorti di nulla che il genitore nel momento della vaccinazione è preoccupato semplicemente di che il bambino stia bene. Controllare la procedura e verificare che la procedura sia effettivamente diciamo a norma mi sembra un po' una responsabilità esagerata. Più rabbia o più preoccupazione quando ho capito cosa era successo? Allora sul momento rabbia, rabbia perché ti affidi a un'azienda o all'assistente in totale buona fede e quindi preoccupazioni immediatamente dopo. Uno effettivamente si chiede se va bene non iniettare il vaccino ma poteva tranquillamente procedere in maniera assolutamente peggiore e quindi magari iniettare qualcos'altro anche se hanno escluso questa ipotesi. Stavate meditando una class action? Ci stiamo pensando, non abbiamo ancora deciso, non sono rappresentante effettivamente di questo movimento però è venuto fuori l'argomento tra di noi, tra mamme che fanno parte del comune e valuteremo. C'è molta rabbia, c'è molta rabbia. Il caso dei finti vaccini è unico nel suo genere, non esistono precedenti in letteratura ma da una brutta esperienza si può migliorare anche rivedendo gli standard procedurali. Oggi avete ribadito che quello che è accaduto a Treviso come qui in Friuli è un caso unico, la letteratura non racconta di nient'altro successo in passato. Da un'esperienza di questo tipo si può imparare qualcosa, si possono in qualche maniera migliorare le procedure? Allora, noi nella nostra regione Friuli e Zia Giulia abbiamo già da diversi anni attivato un processo all'eccellenza, quindi non è di accreditamento, quindi non è istituzionale ma è proprio condiviso e voluto dai servizi vaccinali. Abbiamo predisposto anche un manuale di accreditamento, abbiamo fatto nel tempo anche degli audit, quindi confrontando i vari centri con personale di altri centri e abbiamo anche a disposizione un regolamento della seduta vaccinale che è approvato con delibera della Giunta regionale. Evidentemente questi manuali, come tutti i manuali di accreditamento, vanno periodicamente aggiornati e appunto quest'anno, secondo le linee di gestione del servizio sanitario regionale, abbiamo il compito di fare una revisione o meglio un aggiornamento. Saranno coinvolti gli operatori dei vari servizi vaccinali della regione e assieme faremo questi miglioramenti. Traffico intensissimo e codi a tratti, soprattutto di mezzi pesanti, sulla 4 Venezia Trieste a partire dalle 11 del mattino. Come previsto è annunciato il divieto di transito per i mezzi pesanti, che in Slovenia era in vigore anche ieri, ha fatto sì che gli auto articolati tire le bizarre che si ammassassero alla frontiera per poi ripartire all'alba. A complicare la situazione un incidente in prossimità del nodo di Palmanova, l'interconnessione tra 23 a 4, due veicoli coinvolti, un'auto mezzo pesante che sono stati rimossi rapidamente evitando così il blocco del traffico. Le code a partire dalle 11.30 si sono sviluppate sull'asse autostradale Villese-Portoguraro in direzione Venezia, ma i veicoli leggeri hanno sempre potuto circolare in corsia di sorpasso. Forti ralentamenti ma non congestioni anche in prossimità dei cantieri, ancora in fase di allestimento, in quanto i lavori vengono effettuati solo in notturna per la realizzazione della terza corsia nel tratto San Giorgio di Nogaro-La Tisana. Un giovane è rimasto ferito in un incidente avvenuto a Udine tra le vie Gonarse e Lumignacco poco prima delle 9 di questa mattina. Per causa in corso di accertamento da parte della Polizia Locale e dei Carabinieri intervenuti sul posto, un'auto guidata da un uomo di Udine ha centrato uno scooter. Sulle due ruote stava viaggiando un ragazzo del posto che è caduto a terra e immediato l'arrivo dell'equip del 118 che ha stabilizzato il ferito e l'ha trasferito all'ospedale di Udine. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto alla bonifica della sede stradale. I Carabinieri di Codroipo hanno invece denunciato un 43enne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari, che interferiva sulle frequenze radio in uso alla Polizia per monitorare la presenza di pattuglie in zona. Grazie a una perquisizione domiciliare i militari hanno scoperto due ricetrasmittenti, quattro radioscanere, uno scanner veicolare del valore complessivo di 4 mila euro, tutti sequestrati. L'uomo dovrà rispondere dei reati di installazione di apparecchiature atte a intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche. E c'è un'ultima ora, pochi minuti fa è avvenuto un tentativo di rapina ai danni della Lidl di via Cividale a Udine, un uomo avvolto coperto. Si sarebbe introdotto all'interno del centro commerciale armato di un taglierino, forse per minacciare le dipendenti e le cassiere e farsi consegnare l'incasso. Sul posto sono intervenuti i militari della radio mobile dell'arma dei Carabinieri che occuperano anche di accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Rissa invece tra stranieri nel Pordenonese, due di loro, il pakistano Iqbal Muhammad, 30 anni, e l'afgano Noman Khan, di 31 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri di Aviano e Fontana Fredda per resistenza e violenza pubblico ufficiale, concorso in lesioni personali e minacce aggravate nei confronti di un altro cittadino straniero. Violenta lite invece tra conviventi alla Tisana. I Carabinieri sono stati chiamati per placare gli animi, ma quando sono arrivati a casa della coppia, la donna, una straniera di 42 anni, si è scagliata contro i militari prima di essere immobilizzata. Sul posto anche i sanitari del 118 per accompagnare in ospedale la donna e sottoporla alle cure del caso. La violenta lite è costata alla donna una denuncia per violenza, minacce e resistenza pubblico ufficiale. Era morto in campo durante una partita di palacanestro lo sport che amava. Eugenio Rossetti, 16 anni, si era improvvisamente accasciato sul parchè colto da un arresto cardiaco lo scorso mese di ottobre, mentre si trovava in trasferta nel palasport di Mazzano, piccolo centro del Bresciano, con la squadra under 20 del basket Trieste. Nonostante la corsa in ospedale per Eugenio non c'era stato nulla da fare. La struttura non era dotata del defibrillatore e gli sforzi dei sanitari erano stati inutili. Così, dopo aver constatato il decesso cerebrale del ragazzo, la procura di Brescia aveva aperto un fascicolo per fare chiarezza su una morte che aveva sconvolto tutto il mondo della palaspicchi. Ora si sono ufficialmente concluse le indagini e sul registro degli indagati è stato scritto il nome di Derek Depolo, il dirigente accompagnatore della squadra. Secondo il PM, Ambrogio Cassiani, che ha firmato gli atti, Rossetti non era in regola col certificato medico di idoneità sportiva scaduto da tempo. Il sedicenne soffriva di un importante problema cardiaco. Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ha sanzionato la Banca Popolare di Vicenza per un totale di 9,14 milioni di euro per violazioni commesse dal vertice aziendale tra aprile 2011 e aprile 2015. I provvedimenti riguardano il CDA e il Collegio Sindacale in carica all'epoca dei fatti. Agli stessi soggetti sono state combinate anche le sanzioni assessorie dalla perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e dell'incapacità di assumere incarichi in società quotate o loro controllate per un totale di 76 mesi. Stretta dell'amministrazione comunale contro il degrado a Monfalcone, il sindaco Cisint chiede al prefetto di Gorizia un maggiore presidio da parte delle forze dell'ordine. Chiederà un rafforzamento degli organici e delle forze di polizia per poter attuare un controllo più intenso ed esteso sul territorio, in particolare in certe zone definite sensibili. Da parte sua è disposta a fare la sua parte con gli agenti di polizia municipale che per buona parte dell'anno saranno in servizio fino alle 22 e nei mesi estivi fino alle 24. L'intenzione è quella di mettere il 75% degli agenti municipali su strada, attualmente sono 28 gli agenti del comando municipale monfalconese di cui 5 di recente assunzione, togliendoli dagli uffici e mettendoli a disposizione del controllo del territorio in auto, a piedi o in bicicletta. Oltre a ciò, ha in programma di arrivare ad una modifica sostanziale del regolamento di polizia urbana in cui siano previsti dettagliati comportamenti e pratiche per il miglioramento del decoro e della vivibilità della città, in particolare per il centro ma anche per i rioni. La situazione a Monfalcone è complessa e la presenza delle forze dell'ordine per noi è fondamentale. Già compiono un enorme lavoro, ma il periodo estivo che sta arrivando aggiunge nuove problematiche. Chiederemo quindi un'implementazione di ore di presenza delle forze dell'ordine specificando che anche noi faremo la nostra parte con i nostri agenti, dice Cisint, annunciando che martedì la Giunta ha approvato una delibera con precisi atti di indirizzo in merito alla riorganizzazione della gestione ore di lavoro dei vigili e ai compiti che si intendono affidare. Aperto ieri il cantiere di rifacimento del tratto di fognatura compreso tra le frazioni di Verniaco e Valle a Reana del Royale. Sono cominciati i lavori a Reana del Royale di rifacimento del tratto fognario della sezione tra le vie San Giovanni e Tomadini. Il cantiere però occupa tutta la strada, cosa che ha costretto a chiudere il tratto di strada provinciale 38 tra la rotonda del Collio, municipio compreso, e la frazione di Verniaco. I lavori dovrebbero durare una settimana circa per poi ripristinare completamente la circolazione. Al momento però le auto devono compiere un giro decisamente più lungo attraverso la frazione di Cortale e più d'uno, nonostante la cartellonistica decisamente visibile, si è trovato in difficoltà. A subire variazioni saranno anche, per tutta la durata dei lavori, le linee di autobus e corriere. Ben 5 alle fermate sospese, Remugnano Municipio, Remugnano Scuole, Valle, Verniaco e Cortale, con le attivazioni di due fermate provvisori lungo la deviazione. Caligari sa completato il proprio percorso formativo ottenendo il certificato Elite, che identifica chi si distingue per eccellenza e che dà eccesso a una selezionata community internazionale composta da investitori, banche, imprenditori e professionisti selezionati da Borsa Italiana. È un onore per la mia azienda ricevere il certificato Elite da Borsa Italiana e l'attestato che certifica che il percorso che abbiamo intrapreso anni fa ha dato i suoi frutti, sostiene il presidente dell'azienda Alessandro Caligaris. Inizio del 2017 ha già registrato un segno positivo che ci fa ben sperare, ma il segreto per poter continuare a crescere sta nel non accontentarsi mai e continuare a investire risorse ed energia sia nei mercati già consolidati che in quelli ancora da esplorare. Abbiamo scelto di partecipare al progetto Elite proprio per metterci alla prova e testare ulteriormente lo stato di salute dell'azienda in modo da essere più autorevoli a livello globale e poter aumentare la nostra già rilevante quota export del 70%. Così Alessandro Caligaris. Ha preso il via il secondo lotto dei lavori di ristrutturazione di Piazza Libertà Udine dopo la riconsegna delle statue di Ercole Canco restaurate e ripulite alla volta della Fontana di Carrara, la colonna con il Leone Marciano e il Monumento alla Pace di Campo Formido. L'intero intervento di restauro è stato sovvenzionato tramite l'Art Bonus dalla Daniele Di Butrio. Conclusa da poche ore la prima parte dei lavori di Piazza Libertà Udine, gli operai sono già al lavoro per iniziare la seconda. Ercole e Caco, appena tornati al loro antico splendore, sono stati liberati dalle pesanti intelaiature che permettevano il lavoro dei restauratori, mostrandosi alla città. Ed ora il turno nel Monumento alla Pace di Campo Formido, della colonna con il Leone Marciano e della Fontana di Giovanni Carrara. Un intervento di restauro reso possibile dal contributo della Daniele Officine Meccanica di Butrio, che già in occasione del restauro della loggia di San Giovanni e dell'Angelo del Castello, aveva dato il proprio supporto attraverso l'Art Bonus. Il Monumento alla Pace di Campo Formido, in ricordo del Trattato di Pace tra Napoleone e di Regno Austro-Ungarico del 1797, si trova nella sua attuale posizione da quasi 200 anni, e l'ultimo restauro risalda ormai 17 anni fa. 20 invece gli anni passati dall'ultimo intervento sulla colonna con il Leone Marciano, tanto che sono apparse nell'ultimo periodo piccole crepe e fratture dello strato protettivo. La Fontana è il monumento che tra i tre presenta maggiori danni, con depositi calcarei di incrostazione dovuta all'acqua che ne hanno compromesso la conservazione. È di 120 giorni la durata complessiva stimata dei lavori, anche se il cantiere è stato consegnato soltanto 5 settimane fa, e già il restauro di Ercole Cacco è stato ultimato. Del cantiere si è occupata la LAR di Udine e quando sarà ultimato, finalmente l'intera Piazza Libertà tornerà al suo antico splendore. È mercoledì e come ogni mercoledì apriamo una finestra sugli studi di Friuli Economy, troviamo Massimo Deliva e vediamo quali sono gli ospiti e gli argomenti della serata. A te Massimo. Sì, grazie mille Daniele per la linea. Allora, stasera il titolo della trasmissione è Di padre in figlio, potrebbe essere anche di madre in figlia. Si parlerà del passaggio generazionale. Come molti sapranno, la gran parte delle aziende di Friuli Venezia Giulia è di proprietà di una famiglia e quindi parleremo del passaggio generazionale, vale a dire di quando i genitori lasciano il testimone ai figli. Avremo diverse aziende, avremo l'Auro Caffè, la PF Group, la Copernico Sim, la Pelfa Group, il Città Fiera, l'Evergreen Life Product e anche l'Avvocato Luca Ponti. E infine mi dà una mano nella trasmissione anche il giornalista del Friuli Uber Londero. Ci vediamo alle 20 in diretta con la possibilità anche di interagire e di fare delle domande e la palla torna al direttore di Telefriuli, Daniele Paroni. Grazie Massimo, quindi appuntamento alle 20 con Friuli Economy. Fabio Pettarin, presidente e socio fondatore della TechNest di Tavagnacco, azienda specializzata da 30 anni in soluzioni software e consulenza per la gestione dei processi di produzione, e il nuovo presidente dell'associazione Anima Impresa, realtà che è punto di riferimento per la responsabilità sociale d'impresa in Friuli, Venezia. Giulia Pettarin prende il testimone da Fabrizio Cattelan, amministratore delegato di CDA. In realtà non è un addio quello di Cattelan che rimarrà vicino ad Anima Impresa declinandone i principi. Si intitola Amanti, passioni umane e divine, la tredicesima mostra internazionale di Il Leggio che aprirà al pubblico il 21 maggio. Chi sa amare, sa vivere. Sono parole di Don Alessio Geretti che oggi, con un videomessaggio postato su Facebook, ha svelato in anteprima il tema della tredicesima mostra internazionale di Il Leggio Amanti in sette secoli di arte. Dopo il successo dello scorso anno, quando 25.000 visitatori hanno raggiunto il borgo alpino carnico per vedere l'esposizione dal titolo Oltre, in viaggio tra cercatori, fuggitivi e pellegrini, anche per il 2017 è stato scelto un tema che vuole toccare le corde più profonde dell'animo umano. Amanti, passioni umane e divine. Ecco il titolo della nuova mostra di Il Leggio che quest'anno, dal 21 maggio all'8 ottobre 2017, risveglierà in tutti una domanda formidabile ed emozionante. Che cos'è l'amore? In quell'intreccio benedetto e accidentato, carico di sospiri incantati e di malinconie struggenti che è la nostra vita, tutti si domandano più volte, da sempre, che cosa sia davvero l'amore, se lo incontreremo e se quando lo incontreremo ne saremo degni, ne saremo all'altezza. La mostra di Il Leggio propone una risposta, ripercorrendo le storie dei grandi amanti, liete e tragiche, e i miti antichi che percorrono una vera e propria teoria dell'amore, descrivendo non tanto quello dell'uomo passato, ma quello dell'uomo di sempre, e aiutandoci ad approdare alla speranza cristiana dell'amore divino, quando il consorte che scende dal cielo si presenta di noi invaguito, domandandoci la mano e presentandoci il suo anello sorprendente. Questo incontreremo ad Il Leggio e attraverso il tocco delicato delle tavole dorate o i profili purissimi del neoclassico, o attraverso le impetuose passioni suscitate dai chiaroscuri del barocco e del romanticismo, potremo davvero tutti percepire ancora l'importanza di una domanda centrale, poiché chi sa amare, sa vivere. Dal 2000 ad oggi, il Comitato di San Floriano ha saputo offrire il fascino di più di mille opere provenienti dai più prestigiosi musei del mondo, richiamando più di 300.000 visitatori e raggiungendo una fama di respiro europeo. Adesso andiamo a Tolmezzo, al Teatro Candoni, che ha ospitato un grande della musica italiana, Eugenio Finardi. Ho tante cose che mi ledono a questa terra, e in particolare il fatto di essere stato cresciuto da una donna che praticamente era mia seconda madre, che era di Palmanopa. Breve incipit al concerto, quel cantautore milanese Eugenio Finardi ha tenuto al Teatro Candoni di Tolmezzo con l'etapa del tour di musica ribelle, organizzato per festeggiare i 40 anni della sua storica canzone manifesto, a tutt'oggi osannata da grande successo persino in Cina. All'istanza dei 7 anni, il cantautore milanese è così ritornato in Carnia dopo la performance, che nel novembre 2010 emozionò con le sue canzoni il pubblico da tutto esaurito del Teatro Candoni e che oggi celebra i 40 anni di musica ribelle Diesel Edition. Non è la semplice celebrazione di una canzone, ma pure un atteggiamento, un modo di vivere la musica, che nel 1977 toccò quello che alcuni considerano il suo apice, con la pubblicazione di Diesel, l'album gemello di Sugo, che fotografava con ancora più lucidità e maturità le tensioni di quegli anni. Dalla musica ribelle a Diesel, alla radio, a Saluteremo il Signor Padrone e tante altre sue canzoni, che sono state la colonna sonora dei primi tempi della radio private e di una irripetibile stagione del rock italiano, che aveva Milano come capitale ed Eugenio Finardi come sua punta di diamante. Il concerto, organizzato dalla nuova Proloco Tolmezzo, è un'anticipazione alla 39esima edizione di Folkest, la cremessa avviata nel 1979, che dal 22 giugno al 10 luglio porterà sui palchi di 23 comuni della regione, ma non solo, artisti da ogni parte del globo. Chiude con un largo successo di pubblico la 69esima edizione della Sagra del Vino di Casarsa, che dal 20 aprile al 2 maggio abbondantemente superati i 200 mila visitatori certificati dalle consumazioni di chioschi, dai calici di spumante e dalla presenza in tutte le iniziative collaterali che hanno visto impegnati oltre 600 volontari. Notate non solo presenza dal Friuli Venezia Giulia, ma anche da Veneto, Venezia, Treviso e Padova. E adesso andiamo con la vignetta di Fernando Venturini. La questura di Udine in questi giorni ha notificato 5 d'aspo ad altrettanti tifosi di varie squadre di calcio sorpresi dalle telecamere di sorveglianza dello stadio Friuli. Il 15 gennaio durante Udinese-Roma tre tifosi romanisti sono stati individuati mentre seguivano l'incontro stando seduti a cavalcioni sul vetro che delimita spalti e a campo da gioco in curva a sud. Analoga alla sorte anche per un tifoso juventino durante la partita Udinese-Juventus del 5 marzo più volte invitato a sedersi perché intralciava le vie di fuga. Il 29 gennaio un tifoso friulano ha fatto il bis dopo aver aggredito uno steward dello stadio durante Udinese-Milan si è spostato a Cividale per la sfida di basket GSA Forlì dove ha lanciato provocazioni ai tifosi romagnoli. Pubblicare le proprie foto su Facebook scrivere post aggressivi fornire i dati personali o della propria carta di credito sono tutte operazioni che presentano dei rischi. Nella puntata di questa sera di Eletroshock condotta da Alessandra Salatori e Daniele Micheluzzi si parla dei pericoli che si nascondono in internet e nei social network. In particolare saranno affrontate trappole che mettono in pericolo i dati personali ma anche la sicurezza di giovani adulti. ospiti in studio l'avvocato Fabiano Filippin Paolo Omero di InfoFactory Pierluca Montessoro dell'Università di Udine e l'opinionista Edoardo Petiziol. Bene, chiudiamo qui il nostro Luca Fernosero può mandare la sigla di chiusura. Arrivederci alla prossima. Grazie a tutti.